Allora ragazzi voi dovete capire che quando Marian mette piede in palestra io mi trasformo in modalità reporter di National Geographic e comincio a correre dietro a questo mammifero esemplare maschio adulto di Mariano, 19enne, from Moldavia, che spinge come un animale, la tecnica come sempre è al centro dei dibattiti nei commenti. Io vi voglio giurare e garantire ragazzi che convincerò Marian a fare i suoi massimali con una tecnica pulita perché penso che sia una cosa interessante, anche per dire un massimale di curl bilanciere magari con le spalle al muro fatto bene, vediamo quanto solleva. Ecco nel frattempo però vi lascio a questa smarianata, 70 kg. Marian come ti senti dopo aver sollevato 70 kg di piastre con un braccio? Super genetica.